di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta in nostra compagnia per questa seconda parte della nostra segna stampa del mattino che inizia come sempre con gli aggiornamenti sulla viabilità e allora subito la linea al vice ispettore Cristiano Beretta in collegamento con noi dalla centrale operativa della polizia locale di Udine buongiorno sì buongiorno la situazione di traffico al momento abbastanza regolare in aumento verso la città non abbiamo però criticità particolari volevo segnalare per quanto riguarda i lavori che proseguono quelli della potatura alberi in via Gorizia e via Renati ancora per questa settimana poi proseguono niente di nuovo comunque i lavori della rotatoria di via Popone e per quanto riguarda due segnalazioni in centro via del freddo è chiusa per il rifacimento del manto stradale e per chi è residente nel centro la via Rialto è chiusa sul lato di via Mercato Vecchio appunto perché quest'ultima è stata riaperta ma solo per un piccolo tratto e solo a livello pedonale io volevo ricordare se possibile che dal 9 di dicembre è ripreso il bus navetta della saf verso il centro quindi sia da nord dall'ospedale che dalla stazione è possibile raggiungere il centro storico appunto con questi bus navetta che fanno servizio circa ogni mezz'ora a partire dalle 7.30 di mattina fino alle 18 e niente danno la possibilità di raggiungere il centro e poi ritornano uno ritorna verso l'ospedale l'altro ritorna verso la stazione questo questo perché è ripreso il 9 di dicembre ricordavamo questa cosa perfetto grazie grazie allora al vice ispettore Cristiano Beretta anche per questo memo sulle due nuove circolari la nord e la sud entrate in servizio nuovamente dal 9 dicembre un servizio appunto del trasporto pubblico locale per muoversi dal centro della città verso nord verso l'ospedale o verso sud verso la stazione questo per quanto riguarda la viabilità cittadina andiamo a vedere anche come la situazione sulla a4 e sulle principali autostrade della nostra regione anche sulla 23 situazione tranquilla al momento sulla a4 non ci sono segnalazioni particolari da fare c'è da ricordare però e lo ricordano anche i quotidiani di oggi che da oggi ha aperto un nuovo tratto della terza corsia ce lo dice anche troviamo l'articolo anche sulla prima pagina del messaggero veneto eccolo qua terza corsia a 4 percorribili altri e 12 chilometri fine lavori nel 2025 questo è l'articolo in prima pagina e poi nelle pagine interne abbiamo l'approfondimento che fa il punto sui numeri della terza corsia vediamo la riapertura di un nuovo tratto tra al visopoli e il ponte sul fiume stella altri 12 chilometri completati su entrambe le direzioni 37 dei 98 chilometri complessivi della terza corsia quasi il 40 per cento dell'opera ritorneremo più tardi sui quotidiani adesso il momento dell'aggiornamento meteo e allora subito la linea alivio stefanuto in collegamento con noi dall'osmerarpa mentre sul nostro touch screen cerchiamo alcune immagini delle webcam che ci mostrano alcune belle immagini della nostra regione livio buongiorno 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 a tutti allora la notte è passata serena e col cielo sereno quindi è raffreddato nuovamente in montagna decisamente freddo valore attorno in meno 9 a sappare a tarvisio meno 12 meno 13 a fusine e poi nel corso della della notte si è sollevato un po' di vento da nord est specialmente in pianura quindi la temperatura a udine guarizia risalita attorno allo zero anche sopra allo zero mentre è rimasta meno 2 meno 3 nel port delonese nel corso di queste ultime ore all'alba si vede avvicinarsi un po' di velature da ovest quindi dal vicino veneto dove ci sono già alcune deboli precipitazioni e un po' di nubi basse anche lungo lungo la costa sul mare e questo è l'avvicinarsi di questo fronte che dovrebbe interessarsi in particolare nel pomeriggio sera di oggi quindi questa mattina ancora cielo sereno appunto con con qualche velatura poi nubi che diventeranno via via più consistenti cielo coperto nel pomeriggio è inserata nel pomeriggio sera qualche debole pioggia sulla costa forse sulle fasce orientale quindi goriziano e cividalese forse anche qualche debole nevicata sulle zone più alte del carso sulla costa sofferà ancora un po' di bora ma direi in attenuazione giornata piuttosto punto fresca con massime che non supereranno i 6-7 gradi sia in pianura che sulla costa domani un altro fronte un po' più deciso di quello di oggi che potrebbe portare di nuovo cielo coperto sulla nostra regione precipitazioni direi in genere moderate sulla fascia occidentale più abbondanti su quella orientale forse anche qualche fase di neve mista pioggia sulle zone della media alta pianura nel corso delle ore centrali poi nel pomeriggio sera dovrebbe prevalere la pioggia almeno fino ai 3-400 metri di quota mentre in montagna direi che dovrebbe essere neve fino a fondo valle sulla costa domani sofferà un po' di vento da sud che poi girerà di bora di nuovo nel pomeriggio sera e nel pomeriggio un po' di vento da nord anche piuttosto sostenuto direi sulle zone di pianura poi il tempo tendenzialmente tenderà a migliorare sulla nostra regione nei giorni successivi quindi con di nuovo con la prevalenza del sole sulla nostra regione e quindi cielo direi sereno o poco nuvoloso tra sabato e domenica forse domenica un po' più di variabilità. Grazie e grazie allora Livio Stefanuto per queste previsioni del tempo ci risentiamo domani per fare il punto delle previsioni anche per il fine settimana vediamo se riusciamo a vedere ecco in questo radar che ci arriva dal dall'Arpav del Veneto la perturbazione che in arrivo la perturbazione alla quale accennava appunto prima Livio Stefanuto dell'Osmerarpa sta arrivando appunto sulla sulla nostra regione. rientriamo in studio chiudiamo allora questo aggiornamento sul meteo e prima ancora sulla viabilità per riprendere in mano i quotidiani eh di oggi e andare a vedere assieme un po' le notizie di apertura, le notizie eh principali. Abbiamo eh già visto prima sulla prima pagina del eh messaggero Veneto la foto eh della nuovo tratto di terza corsia che è percorribile dalla giornata di oggi eccolo qua. Andiamo adesso a fare una carrellata veloce sulle aperture dei quotidiani locali c'è la crisi della Safilo ma non solo in eh primo piano il messaggero Veneto apre con questo titolo non c'è solo la crisi Safilo diecimila senza lavoro. Guerra dei Dazi, frenata tedesca, mercato stagnante, manifatturiero sempre più in difficoltà. La portata dell'avvertenza Safilo e le conseguenze occupazionali che promette di lasciarsi alle spalle accendono i riflettori sulle tante situazioni di crisi più o meno congiunturali che da qualche mese sono tornate a costellare il fiuli Venezia Giulia. Un campanello d'allarme che risuona nella sede del sindacato letteralmente bombardato da nuove richieste di autorizzati di ammortizzatori sociali eh cassa integrazione ordinaria e straordinaria contratti di solidarietà che a spanne interessano qualcosa come diecimila persone in Friuli Venezia Giulia. Questa è l'apertura del eh messaggero Veneto eh di Udine che poi nelle primissime eh pagine propone proprio un approfondimento su questo eh tema eh con la crisi della Safilo ovviamente in eh primo piano sembra una condanna senza appello domani ci sarà lo sciopero proclamato negli stabilimenti di tutta Italia dopo Natale eh si vedrà eh i sindacati ieri hanno parlato di un fulmine a ciel sereno eh si sapeva che eh qualcosa non stava andando per il verso giusto ma non si pensava a una crisi di queste proporzioni e c'è l'incubo dei centocin dei duecentocinquanta operai dello stabilimento di eh Martignacco sono quasi tutte donne ricollocarci sarà impossibile dicono ma l'otto gennaio saremo qui. Dall'apertura del messaggero Veneto andiamo adesso sulla prima pagina del gazzettino e il gazzettino del Friuli e vediamo che eh anche qui c'è la crisi della Safilo appunto in primo piano in campo la regione sono circa duecentocinquanta i lavoratori che rischiano di perdere il posto con la chiusura a gennaio dello stabilimento di eh Martignacco. l'assessore Bini ha chiesto subito un vertice con l'azienda una situazione drammatica ha detto cercheremo di fare il eh possibile. Andiamo a vedere anche l'apertura del eh piccolo il piccolo di eh Gorizia e di eh Trieste in eh primo piano c'è la sanità con i pazienti eh che eh si eh spostano in Veneto per curarsi i pazienti in trasferta per curarsi fuga milionaria dalla regione cataratta, protesi ortopediche, ginocchia da ricostruire ogni anno in migliaia a tratti dal Veneto. Il nodo risorse per le strutture private convenzionate promosse dal quarantotto per cento degli eh utenti. Ieri sono stati diffusi anche i risultati di eh un sondaggio promosso appunto realizzato appunto da ehm SVG che analizza un po' eh l'indice di soddisfacimento eh dei eh friulani che si rivolgono alla sanità eh privata. Nell'Isontino in primo piano c'è ancora l'incidente, l'investimento mortale dei giorni scorsi a eh Gorizia, cellulare sequestrato all'investitore della pensionata e poi ci sono le proteste degli abitanti eh di ehm via Leoni, la via in cui è avvenuto l'incidente che eh ora alzano la voce e dicono auto come siluri e file di prima mattina. Dopo l'incidente mortale sono pronti a una raccolta di firme per chiedere più controlli lungo la strada e più tutela per i eh pedoni. Questi i titoli di apertura dei principali eh quotidiani regionali e adesso come sempre in questa seconda parte della nostra rassegna stampa diamo più spazio alle notizie eh sportive allora andiamo sulle pagine sportive dei eh quotidiani locali per parlare di eh Udinese, Pordenone, eh Pallacanestro e non solo e poi andremo sui eh quotidiani eh nazionali oggi in primo piano c'è la Champions con la straordinaria vittoria dell'Atalanta che passa il turno in Champions e arriva agli ottavi eh di eh finale davvero un'impresa. Tra poco eh leggeremo anche eh di questa di questa bella impresa ma adesso spazio come detto alle pagine sportive dei eh quotidiani locali e allora iniziamo con il messaggero Veneto e vediamo la doppia pagina che apre il fascicolo sportivo. In primo piano c'è un eh intervista a eh al barone Franco Causio che legge la sfida di domenica tra Udinese e Juventus. Cara Udinese dice Causio a Torino devi provarci ma non fare affidamento sulle assenze di eh Sarri il barone gioca in anticipo la sfida tra le sue due squadre del cuore De Paul non è un problema per Gotti ma gli manca continuità dice eh Causio Juventus che ieri sera ha eh battuto ehm il Bayer Leverkusen con eh due gol uno di eh Ronaldo l'altro di eh Higuain. Andiamo anche eh sulle pagine del Gazzettino del Friuli sempre per parlare di eh Udinese e andiamo a leggere anche qua i titoli eh principali in prima pagina sul dorso del Friuli nel taglio basso vediamo il tema esaminato oggi dal Gazzettino ovvero quello dei cartellini rossi Udinese deve gestire le espulsioni scrive il eh Gazzettino allora andiamo subito sulla prima pagina dello sport Udinese fai attenzione alla trappola del rosso contro Inter Atalanta e Sampdoria le espulsioni hanno segnato il tracollo in campo dei bianconeri in casa della Juventus Lasagna e compagni dovranno fare attenzione alle eh provocazioni e eh quindi tutto l'articolo che si sofferma sulle espulsioni pesanti eh per i bianconeri nelle nelle ultime gare l'infermeria Sema Samir e Iaialo ancora indisponibili i primi due potrebbero recuperare per il Cagliari non ci saranno di sicuro eh domenica a Torino eh contro la Juve oggi la eh squadra si allenerà alle undici e trenta e ehm poi eh domani eh alle undici e trenta un'altra seduta di allenamento la eh mentre sabato la rifinitura inizierà alle quattordici e poi appunto la partenza per eh Torino a Torino ci saranno anche eh molti supporter eh dell'Udinese si sono mobilitati i tifosi dell'Udinese club di San Giovanni e Natisone e quelli di Pradamano, Sanquirino, Roveredo e Colli Morenici sarà presente all'Allianz Stadium ma anche una rappresentanza dei ragazzi della Nord complessivamente quasi quattrocento friulani affronteranno la eh trasferta di domenica a eh Torino e ancora sempre nel eh sulle pagine del eh gazzettino vediamo il focus su Noiting da scomparso a difensore di eh fiducia. Voltiamo pagina e parliamo di eh Pordenone, Pordenone eh che domenica affronterà il Cosenza in trasferta il eh gazzettino propone oggi un'intervista a Michele eh Camporese che ha un sogno Serie A con questa eh maglia il ventisettenne difensore centrale nero verde ha già firmato due gol tra corsi e ricorsi tutti gli stadi del sud sono caldissimi ha detto ma domenica a Cosenza dovremo fare risultato. Noi giochiamo allo stesso modo sia in casa che in trasferta lontano dalla Dacia Arena siamo stati spesso penalizzati da episodi eh sfortunati queste le parole di Camporese e poi la notizia dello sconto sulla squalifica a mister Tesser è stato tolto un turno di squalifica quindi da tre si passa a eh due andiamo anche torniamo anche sulle pagine del messaggero veneto di eh Udine andiamo a vedere anche qui l'articolo dedicato al eh Pordenone vediamo anche in questo caso le parole di Camporese che pensa in grande e dice voglio la il difensore ha vinto il torneo cadetto con Cesena e Benevento mi piacerebbe riuscirci di nuovo con il eh Pordenone e poi anche qui abbiamo tutta eh l'intervista la nostra squadra bada sempre al sodo e il merito è anche del nostro eh mister mister Tesser che appunto si è vista ridotta la squalifica da eh tre a due eh giornate sarà in panchina contro l'Ascoli domenica a Cosenza ci sarà ancora il vice Marc Struccheli. Chiudiamo questa pagina del eh messaggero veneto andiamo a dare un'occhiata veloce anche al titolo eh sulla palla canestro Udine ha più Carnera da blindare per risalire la eh classifica il calendario propone Orzi Nuovi e Roseto entrambe in crisi a Udine arriveranno poi tre delle prime cinque in eh classifica quindi sarà importante fare bottino pieno nelle prossime eh due gare al eh Carnera. Andiamo adesso sulle pagine sportive eh sulle sì sulle pagine sulle pagine sulle pagine dei quotidiani sportivi nazionali dicevamo prima dell'impresa eh della ehm dell'Atalanta ecco qua le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali un'impresa celebrata dalla gazzetta dello sport che titola mitica Dea impresa dell'Atalanta è agli ottavi fa la storia in Ucraina dominando lo Shakhtar per tre a zero con le reti di Castagne, Pasaric e eh Gosens ora rischia di trovare Liverpool, Barsa o eh PSG lunedì prossimo ci sarà il sorteggio Gasp dei Miracoli questa è la vittoria del calcio eh italiano e vediamo anche la vittoria della Juve, il Tredente Vaci, R7 e il Pipita in eh gol. Andiamo a vedere anche tutto sport, il titolo è divina, Atalanta favolosa, trionfa in Ucraina, conquista il secondo posto nel girone e gli ottavi di Champions, impresa leggendaria che sembrava impossibile dopo i tre K.O. nelle prime tre eh partite e anche qui CR7, Higuain, gol e record, due assist di Dybala e la Juve sbanca Leverkusen, uguagliato al primato di punti, stabilito da Cappello nel duemilaquattro, duemila cinque e Lippi nel novantasei, novantasette e qui ci sono eh tutte le squadre che hanno passato il eh turno e eh che ehm troveremo nell'urna di nel due urne di Enion eh lunedì prossimo nell'urna uno eh Barcellona, Bayern, Monaco, Juventus, Lipsia, Liverpool, Manchester, City, PSG e Valencia, nell'urna due Atalanta, Atletico Madrid, Borussia, Chelsea, Lione, Napoli, Real Madrid e eh Tottenham nel prossimo turno non si incontreranno ancora squadre dello eh stesso eh paese. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere dello Sport che invece apre con il cambio sulla panchina del Napoli il titolo Son Gennaro Gattuso a Napoli insegue il miracolo Champions e dice non paragonatemi ad Ancellotti per me è un padre vedere questa squadra settima mi imbarazza sono orgoglioso di essere del sud nuoto in un mare grande e non devo affogare Ibra parlo solo dei eh miei contratto di sei mesi per Gattuso da settecentocinquanta mila eh euro e poi vediamo anche qui Gasperini sei un mago nel taglio eh alto. E allora ritorniamo sulla gazzetta dello Sport e andiamo a leggere alcune righe dell'articolo di eh apertura dedicato proprio all'Atalanta Atalanta storica Dea che in presa piega lo Shakhtar con un super papu e va agli ottavi la vittoria del City lancia i nerazzurri che sprecano nel primo tempo ma dilagano dopo l'espulsione di Dodò in gol Castagne, Pasalic e Gosens con la regia di eh Gomez ed è davvero una vittoria storica eh per eh l'Atalanta perché nessuno eh è stato promosso in Champions dopo un solo punto in quattro eh gare andiamo come detto a leggere le prime righe eh di questo eh articolo visto il periodo questa sceneggiatura potrebbe servire per un film natalizio da mostrare ogni dicembre a a Bergamo e dintorni chiamare miracolo la qualificazione dell'Atalanta agli ottavi di Champions è il minimo zero punti dopo tre partite sette nelle altre tre la storia si scrive con un successo in casa dello Shakhtar e il contemporaneo aiuto del Manchester City che non doveva farsi battere a eh Zagabria Kharkiv fredda, buia e nebbiosa diventerà una specie di isola del tesoro trovato nei racconti che per sempre animeranno questa impresa nessuno era mai stato promosso dopo aver preso soltanto un punto in quattro partite e con questo tipo di formula anche con zero a metà gruppo ma l'Atalanta è ormai abituata a stupire anche se stessa in camera entusiasmo e cerca sempre dell'altro si nutre della propria felicità eppure di un'idea di calcio rischiosa e poco convenzionale ma che spiana qualsiasi ostacolo Liverpool, Barcellona, PSG, Bayern che venga pure il meglio adesso Gasperini non vede l'ora di trovare altri colossi per guardarli negli occhi e eh giocarsela e poi abbiamo l'articolo che prosegue e le parole anche di eh Gasperini che dice vittoria per tutti e noi e per il calcio italiano c'era la necessità che acquistassimo credibilità ora speriamo di andare a giocare in una bella eh città e come detto ha vinto ieri sera anche la eh Juventus due a zero contro il eh Bayer Leverkusen è andato a segno Ronaldo l'altro gol di Higuain ottavi da Cristiano titola la gazzetta Juve ok con l'aspirina CR7 e il tridente ora funziona con il Bayer entra di bala e scatena Ronaldo Higuain i bianconeri a ehm Leverkusen chiudono il girone a sedici eh punti meglio tridente che mai e scrive ancora la gazzetta sarà un caso deve essere per forza un caso ma tutto cambia quando entra di bala in appoggio alla coppia Ronaldo eh Higuain ancora sempre sulla gazzetta eh dello sport andiamo a vedere anche gli impegni delle altre due italiane eh impegnate oggi nelle coppe europee le due eh romane in Europa League la Roma che eh affronterà il Wolfsberg Orgoglio Mkhitarin ritrova la coppia eh negata l'Armeno torna a titolare in Europa League dopo aver saltato la finale dell'anno scorso per motivi eh politici si gioca questa sera l'Olimpico alle ventuno la Roma eh passa se vince o eh pareggia ecco qua potrebbe bastare anche una sconfitta se il Basak Sheir non vince contro il eh Borussia avanti da prima nel girone se vince e il Borussia non lo eh fa in campo anche la Lazio questa sera contro il Ren niente calcoli voglio i tre punti dice mister Inzaghi Speranzi al lumicino per la Lazio Inzaghi fa un turnover ridotto e cerca il miracolo a Ren la Lazio eh passa solo se vince e un occhio al Cluj Speranzi e Lazio aggrappate a un doppio colpo esterno per passare al sedice ai sedicesimi i biancocelesti devono vincere a Ren e sperare che il Celtic già qualificato da primo si imponga a Cluj pure in questo caso con qualsiasi risultato. Rimaniamo sulla gazzetta dello sport adesso e eh andiamo eh a dare un'occhiata anche a un'altra eh notizia che abbiamo visto ripresa eh prima anche da alcuni eh quotidiani nazionali dalla dalla stampa eh potrebbe essere in arrivo una svolta per le eh atlete eh che eh giocano eh a calcio da professioniste anche se di fatto eh non non sono ancora riconosciute eh tali svolta per le atlete il governo vuole il professionismo passa all'emendamento alle donne le tutele dei maschi e tre anni di sgravi fiscali ai eh club in questo eh paragrafo la gazzetta ci spiega bene di cosa si tratta la commissione bilancio del senato ha approvato ieri un emendamento alla manovra che estende le tutele contrattuali previste dalla legge sul lavoro sportivo e introduce gravi fiscali per tre anni alle società che stipulano con le atlete questo tipo di contratti ora saranno le federazioni a decidere se approfittare del provvedimento quindi la legge delega sul lavoro sportivo fisserà le linee guida in pratica le atlete non sono già diventate professioniste ma l'emendamento che mette sul piatto undici milioni da parte dello Stato ne eh favorisce il eh processo questa è la novità delle eh delle ultime eh ore vediamo anche l'altra copertina della gazzetta prima di andare a dare un'occhiata alle ultime news dal web eh si parla di Milano Milano che si prepara ai eh giochi olimpici del duemilaventisei Milano la capitale del ghiaccio a tutta velocità nella mitica arena eh che eh suggestione e vediamo poi appunto tutto eh l'articolo che eh approfondisce il tema il tema olimpiadi duemilaventisei e impianti appunto a eh Milano chiudiamo questa pagina della gazzetta dello sport e prima di salutarci andiamo a vedere se ci sono delle ultimora sui principali siti di eh informazione che troviamo in rete andiamo sull'Ansa e andiamo a vedere assieme le le ultimora in primo piano ci sono le elezioni eh negli eh in Gran Bretagna elezioni eh Gran Bretagna al via aperti i eh seggi si vota fino alle ventidue ora locale le ventitré in eh Italia quindi voto nel Regno Unito e poi ancora abbiamo visto eh prima sulla gazzetta dello sport le le ultime eh novità per quanto riguarda eh le decisioni della commissione bilancio eh sul sul professionismo anche per le eh atlete commissione bilancio impegnata nella notte ad approvare a esaminare le ultime modifiche alla manovra di bilancio l'Ansa ci dice manovra approvate le misure cardine possibile la discussione eh in aula della eh legge già da questa eh sera dura da circa eh nove ore il lancio è delle sei e trenta quindi adesso sarà anche qualche oretta in più la seduta della commissione bilancio del Senato che in mattinata dovrebbe concludere i lavori sulla eh manovra. Durante la nottata sono stati approvati diversi eh emendamenti cardine del provvedimento eh come quelli relativi alla plastic tax che è stata ridotta a quarantacinque centesimi al chilo alla sugar tax che è stata rinviata a ottobre e alla robin tax cioè l'addizionale Ires salita del 3,5 per cento per i concessionari di autostrade porti aeroporti e ferrovie. Via libera anche alla rimodulazione della tassa sulle auto eh aziendali alla tassa sulla fortuna che sale del venti per cento sulle vincite oltre i eh cinquecento euro. Queste dunque le principali eh novità le principali ultimora eh che ci arrivano dal dal l'Ansa. Ci sono anche alcuni aggiornamenti di cronaca invece dalla nostra eh regione. Innanzitutto c'è stato un eh guasto a un passaggio a livello a Ronchi e Sud sulla linea ferroviaria Trieste eh Cervignano ci sono dei ritardi nei eh collegamenti eh ferroviari ritardi fino a mezz'ora e anche delle eh cancellazioni ai eh cancellazioni dei convogli appunto che viaggiano su questa eh tratta sulla Trieste e Cervignano e poi una spaccata eh nella notte a Udine in piazzale Valle del eh But all'ufficio eh postale della eh zona. È accaduto attorno alle quattro e trenta eh la gente che abita in zona, i residenti in zona hanno sentito un forte botto, hanno pensato a un incidente e sono usciti in strada invece hanno eh visto eh che dei malviventi stavano eh cercando di assaltare il locale ufficio eh postale con una Fiat Punto usata come eh Ariete. La vettura però invece di finire contro la eh vetrata è finita contro eh un muro e quindi eh di fatto i malviventi non sono riusciti a mettere in eh segno a mettere a segno il eh colpo. La stessa banda poi è tentato di scassinare anche lo sportello eh postamat scusate anche in questo caso senza eh riuscirci. Tutti gli aggiornamenti su eh questi e gli altri fatti di cronaca nella prima edizione del nostro Tg alle undici io vi rimando appunto al all'appuntamento delle undici prima però vi ricordo anche gli appuntamenti principali di oggi su eh Udinese TV è giovedì quindi l'appuntamento in prima serata è con l'agenda di Alberto eh Terasso questa sera si parlerà dei buoni e dei cattivi nel dossier di Lega eh Ambiente. Ci fermiamo qui per il momento grazie per la vostra attenzione e a tutti l'augurio di una buona giornata. grazie a tutti. grazie a tutti.